Direi che sia stato molto importante l'incontro che il colonnello ha avuto con i nostri ragazzi sia per l'argomento che ha trattato, sia per la valenza di educazione civica che è uno degli obiettivi che la scuola italiana si pone da alcuni anni anche per creare un rapporto diverso fra le istituzioni ed eventualmente favorire l'orientamento dei ragazzi nei confronti dell'Arma dei Carabinieri. Noi come Arma dei Carabinieri della provincia di Bologna siamo molto grati per la disponibilità e il calore con cui siamo stati oggi accolti in questo istituto come in tanti altri della provincia. Con i ragazzi affrontiamo temi legati alla cultura della legalità di cui non si parla mai abbastanza ed è sempre molto confortante verificare come i giovani siano recettivi su questi temi interessati a questi argomenti e quindi a premessa veramente della costruzione di una futura società migliore.